CHILADI TA CLIOLO Chi la dita che mussier mi ca'è l? Parla italiano, coglione. Non ho tempo per il tuo farfuglio dubbi. Ahahahahaha... Mutabaki Borac, non hai tempo per nulla. E chi lo dice, Mingarlino? Lo dico io. Beh, non so chi diavolo ti credi di essere cadavere ambulante per dire a me quanto tempo mi resta. In caso tu non te ne fossi accordo, questa è casa mia E mi scoccia alquanto vedere un insolente banchetto pervermi Che fa lo spaccone sparacazzate Comportandosi come se fosse lui il padrone Io sono il signore della terra dei morti Quindi fatti da parte, mingerlino Perché questo signore affretta